Gli eventi per festeggiare il Natale non si fermano. La Chiesa del Redentore di Bari, simbolo religioso del quartiere Libertà, ha ospitato un concerto della banda musicale dell'Associazione Polizia di Stato di Bari. Un momento di festa che ha visto come protagonisti musicisti ma anche autorità civili e religiose. Il repertorio è chiaramente un repertorio della musica con la M maiuscola, quindi parliamo di brani di musica classica principalmente, poi magari ci sarà qualche pezzo di moricone, però sempre musica di un certo livello. La banda, composta da 40 musicisti, ha trasportato i presenti in una dimensione celestiale come solo la musica sa fare. Dopo il suo esordio nel mese di novembre all'interno della Basilica di San Nicola e l'appuntamento all'interno della Chiesa del Redentore, l'Associazione è al lavoro per organizzare nuovi concerti nel capoluogo pugliese. È perché le chiese secondo me creano l'atmosfera giusta per questo tipo di eventi, cioè la musica ha bisogno anche del suo ambiente e una chiesa secondo me crea l'ambiente giusto. Grazie a tutti.